ciao a tutti e bentornati sul mio canale come potete ben vedere oggi è una bellissima giornata di sole e io sono qui per farvi vedere un nuovo video un video dedicato agli effetti magici fatti in casa ma prima di tutto mi servirà una spada questa è una spada che andrò a usare per il mio effetto e qui abbiamo quello che ho costruito adesso ve lo faccio vedere vi faccio vedere la performance ma prima di tutto sigla ragazzi il magico oggetto che ho costruito ma prima vi faccio vedere una foto mentre lo stavo costruendo potete vedere che c'è del cartoncino e tutti gli oggetti che usato per costruirlo ma andiamo a svelare questo magico oggetto homemade che vi farà esplodere il cervello come vi dicevo ci servirà una spada e un anello vado ad aprire l'armadietto e vi mostro l'interno completamente vuoto e completamente esaminabile vado a chiuderlo prendo la spada e la inserisco nel buco automaticamente esce dall'altra parte e prendo l'anello un po di magia e l'anello entra nella spada ragazzi il video sta giungendo al termine c'è ancora il sole oggi non ho acceso le luci quindi godiamoci questo bellissimo sole e spero che questo oggetto magico che ho costruito vi sia piaciuto se vi ho fatto esplodere il cervello fatemelo sapere e le solite cose se ancora non ti sei iscritto iscriviti al canale brever king magic lascia un commento io sono qui per rispondere lascia un mi piace e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi